Oggi è una bella poesia di Giuseppe Nittono, adatta al periodo di novembre. Anche tu potresti un giorno qualunque cadere in ginocchio, perdere all'improvviso le cose più care, sentire sulla pelle il brivido dell'angoscia e della solitudine, e tremare. Perché allora ti ostini a volare sempre più in alto, con ali di fragile cristallo, costruite dal tuo egoismo e sporche di fango e di ataviche meschilità? Perché non provi il gusto di fermarti per un attimo e pensare, solo pensare, nel silenzio del cuore, nella quiete di una chiesa, camminando da solo sul rumore delle foglie secche, appena coperte dalla brina del mattino? Perché non smettiri per un solo istante di correre senza fine verso falsi santuari o nidoli muti? Perché non provi a stendere le tue mani, non per colpire, ma per donare? Perché non tenti di liberare la tua mente dai dèi deliranti, di angelo senza ali? perché non pensare ma per la mia mente